Buon Shavua Tov a tutti. Questa settimana era la parciale di Balak. Balak era il re di Moav. Moav era il popolo che è venuto fuori dalla figlia di Lot, Amonu Moav, che erano le due figlie di Lot, che aveva nazioni vicino a Israele. Balak era il re di Moav, che purtroppo, avendo paura degli ebrei, invece di venire a aiutare gli ebrei e portargli pane e acqua e aiutarli a insediarsi in Israele, e ha andato a prendere Bilam, che era un profetto delle nazioni, non ebrei, e a cercare di maledire gli ebrei. L'opposito di quello che dovevano fare. Il Dio si aspettava che Balak aiuterebbe gli ebrei e sarebbe un amico degli ebrei. Infatti, Avram ha venuto che Lot era il figlio del fratello di Abramo e Abramo ha preso Lot con sé quando è andato in Israele e l'ha aiutato in differenti problemi che aveva nella vita. Infatti Lot doveva ringraziare gli ebrei per quello che hanno fatto. E Dio si aspettava che i Moav, Balak, il re di Moav, aiuterebbe, porterebbe pane e acqua agli ebrei che sono venuti dall'Egitto e aiutarli a installarsi. Ma siccome aveva paura, ha visto che hanno sconfitto gli egiziani, ha visto che hanno sconfitto gli ammalekhi, ha avuto paura e è andato a prendere il profeta Bilam da bestemmiare gli ebrei. È un problema delle volte, abbiamo paura di persone che sono forti, che hanno certe potenze e gli andiamo contro. È uno sbaglio, si deve ravvicinarsi uno con l'altro, con l'aiutare. E invece di farsi nemici ci facciamo amici, esattamente come è successo anche in Egitto. Gli ebrei hanno aiutato l'Egitto a diventare una forza, una potenza, con Yosef Azzadik che ha aiutato molto gli egiziani a svilupparsi. E invece uno dei faraoni, dopo che Yosef Azzadik è morto, ha detto, ma questi ebrei si metteranno con i nostri nemici, ci butteranno fuori dall'Egitto, dobbiamo essere forze, forti con loro, facciamo schiavi. E ha iniziato tutti i problemi. Ma non c'è ragione, gli ebrei erano bravi cittadini e volevano aiutare l'Egitto. Non avevano ragione per andare contro l'Egitto e sarebbe stata una buona connessione di ebrei con gli egiziani e sarebbero arrivati a delle buone cose. Invece, essendo ostili con persone che abbiamo paura di loro, fa che queste persone diventino dopo nostri nemici. E si deve avere, noi impariamo da qui, da là, che si deve avere paura solo di Dio, di non avere paura di nessuno. Nessuno ci può fare nulla di male, non ci può neanche aiutare se Dio non lo vuole. Tutto è in mani di Dio. Se Dio non vuole che qualcuno ti danneggia, non ti può danneggiare. Tutto il tempo che hai fiducia in Dio e non hai fiducia in altre cose. E allora non c'era buona ragione di aver paura di persone, si deve cercare di farci amici, di altre persone, di aiutare e quello porterà buono a noi, a loro, a tutto Israele, a tutto il mondo. Grazie a tutti, grazie a tutti.